Siamo con Sandro Pino, occasione della presentazione della sedicesima edizione di Gusto dopo al Sole, un appuntamento ormai diventato imperdibile. Eh sì, tutti gli anni abbiamo questo festival da fare per il Salento, per il Sud Italia, è diventato un appuntamento molto importante a livello nazionale e quindi siamo costretti ogni anno a migliorare sempre di più e a fare sempre un grande festival per il nostro territorio. Con nomi di altissimo livello anche quest'anno? Eh sì, il festival è sempre urban ma abbiamo voluto iniziare a fare delle nuove sperimentazioni con l'IDM, inserendo l'IDM all'interno del festival ma rimane sempre un festival urban, reggae e hip hop dove vediamo DJ Graff, Alborosi, Freddie McGregor, Richie Steven, Sustan System, Riapre la Classe e la novità, la cosa più eclatante è quella del 12 e David Guetta il quale ha suscitato anche polemiche all'interno del movimento urban, l'inserimento di David Guetta ma un bel giorno stando in Giamaica a Docio Rios ho visto che c'era un grossissimo festival dove c'erano i migliori artisti DM con i migliori artisti reggae e allora ho detto se si può fare in Giamaica si può fare anche in Salento grazie a tutti